Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Wesa Channel. Oggi vorrei parlare della presenza dei bambini su internet, soprattutto dei bambini molto molto piccoli, diciamo degli infanti, dei bebè. Un tema che non si discosta molto da quello che abbiamo affrontato nel video precedente, cioè il tema del paternalismo intergenerazionale, cioè quando i genitori prendono delle decisioni per i figli, decisioni alle quali i figli in un modo o nell'altro non possono partecipare. Nel video precedente però parlavamo di una ipotesi fantascientifica tutta proiettata nel futuro. Qui invece piedi per terra e tempo assolutamente presente. I bambini poppanti su internet tirano, funzionano, attirano visibilità, generano visibilità, like, approvazione, tenerezza, quello che volete. Sono sicuramente un potentissimo veicolo di comunicazione, però non ne sono consapevoli, non ne sono ancora consapevoli e non ne sono ancora partecipi in qualche modo. Sono i genitori a decidere che quei bambini appariranno. In questo senso, a parte tutti i vari royal babies del mondo, ci viene in mente sicuramente l'esempio di Leone, che è già una star, il figlio di Fedez e Ferragni, pur essendo piccolissimo. È sicuramente ancora una star a sua insaputa. Di questo suo status e di questo suo passaggio per i social si renderà conto, crescendo e raggiunta l'età del consenso, come direbbe Emmanuel Castro, sarà più o meno contento e felice di questo suo passato. A questo punto, ovviamente, si potrebbe dire, beh, ma che cavolo, ma sei il figlio di Fedez e Ferragni che fa i tilamenti? Sei stato così sovresposto da essere già una star nel momento in cui deciderà di essere indipendente, anche come personaggio creativo quel cavolo che avrà voglia di fare? Partirà da una posizione di privilegio rispetto a quella di tantissimi altri, no? Non soltanto da un punto di vista economico, ma già come personaggio, come individuo riconoscibile. Il problema è che comunque sia, qualunque sia l'opinione che si farà crescendo, in ogni caso questa opinione non è stata, non gli è stata chiesta, perché non era possibile chiedergliela, perché è un bambino così piccolo, non è in grado di capire quello che gli sta accadendo intorno. Sia chiaro che il concetto di paternalismo va preso comunque sempre con le pinze, bisogna stare molto attenti, è normale che i genitori prendano delle decisioni per i bambini. Soprattutto per un bambino così piccolo, che non è in grado di badare a se stesso, è giusto che i genitori decidano per lui, perché anche decidendo per lui si prendono cura di lui. Questo vale per tutti i bambini e non soltanto per quelli dei VIP cosiddetti. Però ci sono decisioni che sono finalizzate alla cura e alla protezione ed eventualmente anche alla dotazione degli strumenti dell'emancipazione intellettuale, cultura e quant'altro. E ci sono invece delle decisioni che hanno a che fare con l'immagine di questo bambino, che sembra un bambolotto, sembra un giochino, è tanto carino eccetera eccetera, però non dimentichiamoci che è già una persona proprio come noi, anche se non ancora così consapevole eccetera. Quindi questa persona subisce, ma subisce la parola da intendersi in modo assolutamente neutro, nel senso che è una cosa che gli arriva addosso e lui è soltanto passivo rispetto a questo, subisce una decisione altrui sulla quale svilupperà una consapevolezza nel corso degli anni e soltanto a un certo punto potrà maturare e sviluppare un giudizio, ma a quel punto sarà troppo tardi rispetto alla decisione. Si potrebbe dire che in qualche modo i genitori abbiano scritto alcune pagine della sua biografia pubblica e il fatto che sia pubblico è il punto naturalmente, non il fatto di fare delle foto dei bambini, di condividere magari con gli amici o cose del genere. Il problema è proprio la pubblicazione di queste immagini, di questo materiale. Avranno già scritto delle righe, dei capitoli della sua biografia pubblica, indipendentemente dalla sua volontà e quindi lui in qualche modo si ritroverà a gestire la propria immagine pubblica e potrà anche decidere di non averne una, ma comunque non potrà decidere di non averne mai avuta una. Capite che cosa voglio dire, con un discorso già iniziato. A questo punto ci si dovrebbe domandare, ma se pubblicare le immagini dei bambini, a parte che ci sarebbe anche un'altra obiezione, facciamola, l'obiezione potrebbe essere, ma come, ma ti immagini internet senza immagini di bambini, che tristezza, che luogo brutto, sono tanto carini, sono tanto pucciosi, insomma, è bello vedere le immagini dei bimbi, che male fa? Dipende, dipende. Chiunque di noi ha il diritto di decidere di fare ciò che vuole della sua immagine e se uno dice io preferirei starmene in privato, a quel punto è troppo tardi per poterlo dire, questo è il punto. Quindi che cosa bisognerebbe fare? Ritorniamo al discorso che stavamo iniziando, che cosa bisognerebbe fare, cosa sarebbe auspicabile? Filma, fai tutto il materiale possibile e immaginabile sul bambino X o il bambino Y, ma aspetta che lui sia nell'età di poterti dire sì, ok, lo pubblichi, anzi a questo punto lo pubblico, visto che sono io il bambino, che sono diventato adulto, oppure no, no, non mi va, preferisco che rimanga in casa, che rimanga privato. A questo punto però si creerebbe un delay, diciamo, di 18 anni, così convenzionalmente, fra il momento in cui alcune immagini vengono registrate, alcune gag, alcuni sketch carini, eccetera, eccetera, e il momento in cui vengono pubblicati. Sorge spontanea la domanda, perché non si aspetta. È molto difficile fare, non è che è difficile, è assolutamente illecito fare il processo alle intenzioni, noi le intenzioni di qualcuno le conosciamo soltanto da ciò che questo qualcuno, come si può dire, comunica, emette, quindi non sappiamo mai che cosa succeda nel foro interno finché quel foro interno non produce dei segni che noi possiamo interpretare, quindi non sappiamo, non possiamo sapere con certezza quali siano le intenzioni dei genitori, che siano i Ferragnez o che siano gli amici che mettono sempre tutte le foto, dei bambini. Non lo possiamo sapere. Sicuramente possiamo sapere quali sono i risultati di questa tipologia di pubblicazione e sulla base di questi risultati, facendo un pochino di reverse engineering per così dire, possiamo cercare di immaginare quali sono stati i pro e i contro di quelle decisioni. Abbiamo detto che le immagini dei bambini sono molto potenti, ma sono potenti soprattutto se i genitori sono pubblici in qualche modo, ma ripeto pubblici rispetto al contesto, i Ferragnez magari sono pubblici rispetto al contesto Italia, magari i genitori X sono pubblici rispetto a un contesto di poche migliaia di persone, non è questo il punto. Se tu sconosci la storia dei genitori è diverso che immagine anonima e assolutamente da catalogo di bambino X sono due cose molto differenti. L'immagine del bambino e tutto ciò che genera da un punto di vista di like, commenti, portata del messaggio è fortemente legata alla freschezza del suo concepimento, alla freschezza della sua venuta al mondo. Il bambino in questo senso è un tema caldo, ma non rimane un tema caldo per 18 anni. Certo, a 18 anni potrà essere divertente vedere il 18 anni che pubblica le immagini di lui da poppante, ma non è la stessa cosa di inserire quelle immagini, quegli sketch, quelle stories eccetera eccetera, all'interno di quel momento narrativo potentissimo che è la nascita, che è il concepimento. Quindi esiste oggettivamente un peso che quelle immagini hanno e quel peso fa parte di una strategia comunicativa da parte dei genitori. Scusate, ennesima pausa dovuta al mal di gola. Di quella strategia il bambino non è decisore, ma è strumento e hai voglia di dire, beh ma io quelle immagini lo ritraggono felice che ride e si diverte come un matto. Ma cosa c'entra? Non stiamo assolutamente parlando di maltrattamento, ma neanche per sbaglio. Stiamo parlando dell'utilizzo dell'immagine di una persona che non sei tu e che non ha partecipato alla decisione di quell'utilizzo. E non è nemmeno importante, come dicevamo prima, il fatto che poi col senno di poi dica, se si andava benissimo non c'era nessun problema. Capite? Al tempo stesso uno potrebbe obiettare. Tipicamente un genitore potrebbe dire, ma cosa mi viene a rompere le palle? Quello è mio figlio, faccio quello che voglio. Attenzione, il fatto che quello sia tuo figlio non significa che sia tuo da un punto di vista della proprietà, è tuo da un punto di vista della potestà, non solo la stessa cosa. E come al solito quell'immagine non è la tua, ma è la sua, che sembra una bambola, sembra un giocattolo, sembra una proprietà, ma in realtà è una persona che non sta decidendo per sé. Questo è un tema, secondo me, è importante. Poi, ripeto, non è che si debba drammatizzare, siamo nel 99% dei casi, staremo parlando di nulla, perché probabilmente arriveremo a un punto in cui tutti i giovani cresceranno con già un background di immagini di se stessi da poppanti sparsi per internet, ma in realtà non è detto, in realtà non è sempre così, e soprattutto c'è il discorso anche mercantile. In realtà mercantile nel senso che, sopra una certa soglia, visibilità non è soltanto visibilità, è letteralmente diventata qualcosa di più, da un punto di vista economico, lì ci sarebbe in realtà una controobiezione, perché qualcuno potrebbe dire, ma io utilizzando l'immagine di te poppante, in realtà sto, e siccome tu sarai erede, sto in realtà in qualche modo facendo cassa con un periodo irripetibile della tua vita, ora qualunque periodo è irripetibile, ma quello è abbastanza distintivo, con un periodo irripetibile della tua vita a tuo beneficio. Quindi non ti lamentare, sto scrivendo righe della tua biografia, ma sto facendo anche il tuo bene, quella è un'obiezione secondo me abbastanza sofistica, però che in qualche modo qualcuno potrebbe fare. Quindi, insomma, il tema è abbastanza complicato, se ci pensate bene, soprattutto perché ruota intorno a quella cosa di cui tendiamo sempre molto facilmente a dimenticarci, cioè noi non possediamo gli altri, e gli altri avrebbero il diritto di scrivere, finché non infrangono la legge e non calpestano la libertà altrui, avrebbero il diritto di scrivere ogni riga, o quasi ogni riga, della propria vita, o almeno della propria vita pubblica, di gestire come minimo la propria immagine, per cui io, in teoria, lo sapete benissimo, non posso andare in giro con il cellulare a fare delle riprese in centro a Bologna quando ci sono migliaia di persone, perché dovrei chiedere ad ognuna il consenso per venire ad apparire nel mio video, faccio per dire, no? È lo stesso discorso, in realtà. Quindi, insomma, finché non c'è il consenso, bisognerebbe posporre le decisioni che prenderemo al posto di altri. Va bene ragazzuoli, tema che avevamo affrontato anche due giorni fa, fatemi sapere cosa ne pensate, l'altro giorno veramente una marea di commenti interessantissimi, sono curioso di sapere la vostra, ci vediamo al prossimo video.